Le donne messicane sono scese di nuovo in piazza contro il femminicidio. Una marcia di protesta si è tenuta a Monterrey, nel nord del paese, per chiedere giustizia dopo il recente ritrovamento del corpo della diciottenne De Bani Escobar, che era scomparsa il 9 aprile. Il Messico ha registrato oltre mille femminicidi lo scorso anno, crimini che spesso rimangono impuniti.